Da bat a bat in casa Scandone non c'è mai pace, nelle ultime ore è venuto a galla quello vinto da Jason Rich. A dane notizie è stato il portale Sportando. La sentenza, arrivata lo scorso 8 gennaio, ha condannato il club avellinese a corrispondere alla guardia quasi 55.000 euro per compensi non corrisposti e più di 11.000 euro per le spese legali. Vertenza che però non ha ancora fatto scattare il secondo ban per la Scandone, che ormai da giorni sta provando ad accelerare le pratiche per poter sbloccare il mercato e tesserare Marchetti e Stanzani, in Irpinia, ormai da una settimana. E per farlo c'è una sola strada praticabile, pagare la vertenza di Martin Lunen. Da giorni le parti si stanno parlando, per concludere un accordo, con uno straccio ovviamente della cifra dovuta alla statunitense, come già accaduto per i precedenti lodi, ma in ogni caso bisognerà attendere i tempi tecnici per poter ricevere il semaforo verde. I biancoverdi si augurano tutto possa andare per il verso giusto e consentire al club di poter intervenire sul mercato prima dell'arrivo della vertenza di Rich. Una corsa fra mille ostacoli, come ormai sin da inizio stagione, sta accadendo per la società erpina, che con ripetuti salti mortali vuole provare a rinforzare un roster che dovrà lottare fino all'ultimo minuto per non retrocedere. Un roster che intanto lavora in palestra e si avvicina alla trasferta di Roma contro la LUIS, prevista per sabato alle 18.